Nel segno dell'acqua alza il Sipario Sondro Festival ed è subito un grande successo. Dopo la presentazione delle novità della 27esima edizione della mostra internazionale dei documentari sui parchi, alla presenza di Marina Cotelli, Presidente Assomido, del Direttore Simona Nava e di tutti i protagonisti dell'evento, sul parco della gremita tensostruttura di Piazza Garibaldi è salito il primo ospite d'eccezione, Amideo Ricucci. Il giornalista reporter in Rai dal 1993 ha raccontato alle oltre 500 persone in sala il tema attualissimo delle guerre per l'acqua, bene sempre più prezioso e scarso. Poi spazio alle proiezioni, dalle lande estreme e selvagge della Tasmania al mondo parallelo e meraviglioso delle Alpi, immagini straordinarie catturate dai primi due documentari in concorso.